Qual è la sua responsabilità? La sua responsabilità ha voglia di esplorare territori nuovi e ha anche voglia di divertirsi, di provocazione in senso positivo, di ricerca di linguaggi che siano qualcosa di incoerente in qualche modo con la tradizione, è una cosa molto importante. Qual è la sua responsabilità? La sua responsabilità è stata proprio quella di dare a questo materiale, che non è un materiale nobile come la plastica, qualche elemento di ricercatezza e di raffinatezza e di esclusività che di per sé non avrebbe avuto. E da qui è nata l'intuizione di regalare lo swatch come una tela bianca agli artisti per esprimersi. Nel 1984 è nato il primo progetto con un artista a Parigi, è stato presentato all'interno del Centre Pompidou, quindi già creando una relazione praticamente naturale tra l'arte, un'icona dell'architettura contemporanea come il Centre Pompidou. E da allora questa relazione è continuata in maniera coerente e soprattutto continuativa. Per me personalmente è proprio la definizione del processo di lavoro con un artista, è proprio quella di offrire all'artista la possibilità di fare delle domande. Un altro esempio è il lavoro che abbiamo fatto tanti anni fa con Renzo Piano, il quale ha accettato di disegnare, di creare uno swatch, ma soltanto se avessimo accettato noi la sfida di fare qualcosa che non era mai stato fatto prima, e cioè di colorare gli elementi del movimento. Una delle marce in più che Swatch ha nel mondo del design è anche dovuta alla collaborazione che abbiamo avuto per tanti anni con Alessandro Mendini. Quando il laboratorio creativo di Swatch era a Milano, Luin è stato il direttore artistico per molti anni, quindi ha dato un'impronta forte anche perché Swatch rappresentava un'espressione della sua filosofia di design legata in qualche modo al concetto del divertimento, al concetto della provocazione, al grande legame con il colore come elemento di espressione. E Alessandro è stato anche l'autore di alcuni dei pezzi più rappresentativi, perché il primissimo orologio che ha fatto si chiamava Lots of Dots ed era proprio la trasposizione sull'oggetto Swatch della poltrona Proust. Lo Swatch Arpis Hotel a Shanghai è un progetto credo veramente unico al mondo. Intanto è proprio la dimostrazione fisica di questa relazione particolare che Swatch vuole avere con il mondo degli artisti, con la comunità degli artisti. È stata una intuizione del signor Hayek quella di creare uno spazio affinché gli artisti potessero esprimersi in libertà. Lo Swatch Arpis Hotel è un edificio che fu costruito nel 1906, un edificio che ha ospitato delle tappe molto importanti della storia moderna della città di Shanghai. Quindi per la comunità locale è una vera icona. All'interno, naturalmente rispettando l'architettura e alcuni degli elementi interni strutturali, abbiamo invece creato uno spazio molto moderno. Abbiamo mantenuto ovviamente al piano terra degli spazi commerciali per alcuni dei marchi del gruppo. E poi il primo, il secondo e il terzo piano sono invece stati trasformati in spazi completamente a disposizione degli artisti. Quello che ci siamo trovati con grande entusiasmo ad affrontare è la diversità dei profili degli artisti. Abbiamo incontrato domande veramente di tutti i generi, tantissimi scrittori, moltissimi musicisti, compositori, ballerini, danzatori. Perché la possibilità di confrontarsi con gli artisti locali, con gli artisti cinesi, attraverso questo progetto, è uno degli elementi forse più importanti che attirano di più i talenti da tutto il mondo. Io credo che nel mondo della creatività non ci siano regole. Per cui la bellezza di poter fare questo lavoro è proprio quella di poter vivere in un certo senso alla giornata, seguendo l'ispirazione del momento, seguendo soprattutto quello che arriva da fuori, mantenendo una mente, una mentalità, una mente sempre molto aperta, in modo tale da poter assorbire quello che il mondo ci presenta. Poi il processo di elaborazione di tutti questi indizi o di questi piccoli elementi è qualcosa che non saprei assolutamente definire, non credo che nessuno sia in grado di definirlo. Si può parlare anche di una certa fortuna nell'avere questo tipo di sesto senso, questo tipo di capacità. Il mio lavoro in particolare però non è un lavoro che io faccio da solo, assolutamente. Il lavoro che io faccio è quello poi di dare degli spunti e un'ispirazione a dei team di creativi che lavorano all'interno, sia sul prodotto che in altri campi dell'espressione del marchio. E quindi poi c'è anche una dimensione di gioco e di ricerca insieme alle persone che fanno parte del gruppo creativo. Per me personalmente il colore è un elemento importantissimo, anche se non sembra, ma della vita. A me piace proprio essere circondato dal colore. E non è solo il colore in quanto tinta, è anche una questione di colore dal punto di vista degli atteggiamenti, della mentalità. Per me il colore esprime emozioni prima di tutto ed è capace anche di trasmettere emozioni in maniera probabilmente immateriale più di quanto sicuramente le parole possono fare.